Buongiorno, sono Cristian Costa, consulente tecnico di Derbygum Italia. In questo video parleremo dei CAM, criteri ambientali minimi, della pubblica amministrazione e di come i prodotti Derbygum si inseriscono all'interno di questa normativa. I criteri ambientali minimi rientrano nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale nei consumi della pubblica amministrazione. Inseriscono la sostenibilità ambientale quindi tra i criteri di scelta delle forniture della pubblica amministrazione. A partire dal 2016 e con successive modifiche, tra cui quella più importante, quella dell'ottobre 2017, indicano quali sono i criteri di scelta e di. Con particolare riferimento all'ottobre 2017 viene indicato quale sia il campo di applicazione esatto, più precisamente tutti gli interventi di nuova costruzione, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, impongono l'applicazione dei criteri ambientali minimi, lasciando escluso solo il resauro conservativo. Come si inseriscono i criteri ambientali minimi all'interno del concetto di sostenibilità? Attraverso tre punti fondamentalmente. Il primo, la scelta di prediligere materiali che abbiano alta durabilità e bassa manutenzione. Tra questi i prodotti DerbyGoo, SP e DerbyColor, grazie al loro certificato del British Board of Agreement di durabilità di almeno 40 anni, se correttamente installati, sono ottimali. L'altro aspetto riguarda prodotti che abbiano elevati indici prestazionali, quindi con caratteristiche tali per cui in modo attivo o passivo garantiscono dei risparmi, in modo particolare risparmi energetici. Da questo punto di vista, nei prodotti per coperture, il DerbyBright, materiale color roof altamente riflettente, si inserisce a pieno titolo tra questa tipologia di prodotti. Infine, inserisce la preferenza di prodotti che contengono riciclato o che siano agevolmente riciclabili, identificando a seconda delle partizioni del fabbricato i quantitativi minimi in volume, in percentuale, da scegliere. Tra questi il DerbyGoo NT e la gamma NT in generale contenente riciclato è sicuramente un prodotto ideale e pienamente conforme. Ma vediamo ora quali sono più in dettaglio i punti che vanno ad interessare le coperture. Il primo punto, il 226, identifica quale fondamento di intervento il controllo del microclima, prescrivendo quindi dei parametri minimi da rispettare sulle coperture, tra cui la scelta deve preferibilmente ricadere tra coperture a verde o coperture con elevato valore di SRI, Solar Reflectance Index. Più precisamente, per coperture con pendenza superiore al 15% viene richiesto un SRI di almeno 29, mentre per le coperture con pendenza inferiori o uguali al 15% viene richiesto un SRI con valori da 76 in su. Nella fattispecie il Derby Bright NT, prodotto di DerbyGoo, un bituminoso con coating acrilico ceramizzato ad alta riflettenza, ha un valore di SRI di 100, mentre il Viplan, prodotto sintetico della famiglia DerbyGoo, ha un SRI di 101. Al punto 234 viene individuata la necessità di poter recuperare agevolmente l'acqua piovana a fini irrigui o domestici. Più precisamente, i prodotti di tecnologia acquatop di DerbyGoo, di cui il Derby Bright fa parte, sono dotati di una certificazione di pH neutro, quindi l'acqua piovana non viene contaminata da oli e sudati dal bitume. Allo stesso modo, il Viplan, prodotto sintetico della famiglia DerbyGoo, non solo ha il certificato di pH neutro, ma anche un certificato di potabilità dell'acqua. Al punto 236, il criterio ambientale minimi individuano le procedure di manutenzione e pulizia delle diverse componenti dei fabbricati. Questo per garantire le prestazioni nel tempo, con particolare riferimento per la copertura, il punto 226 e i requisiti di SRI dei prodotti. Grazie al libretto di manutenzione e alle prescrizioni di pulizia dei manti bianchi sviluppati negli anni, DerbyGoo riesce a garantire delle procedure agevoli e semplici per garantire la manutenzione e la prestazione nel tempo. Al punto 241, in diversi paragrafi, viene individuata il requisito di riciclabilità e contenuto di riciclato dei prodotti. In particolar modo, come anticipato, DerbyGoo NT e DerbyCut NT sono prodotti dotati di un alto contenuto di riciclato nell'ordine del 25 e 30% minimo garantito. Oltre a questo, il DerbyGoo NT è dotato anche di EPD. Al punto 273 dei criteri ambientali minimi viene identificata la necessità di avere garanzia prestazionale, cioè fare in modo che l'applicatore installi i prodotti in modo rispondente alle disposizioni dei produttori. Da questo punto di vista, DerbyGoo fa uno step ulteriore rispetto ai criteri ambientali minimi, poiché da anni seleziona attentamente applicatori approvati e rilascia garanzie prodotto e posa di 15 o 20 anni complessivi. Per meglio approfondire i prodotti DerbyGoo conformi ai criteri ambientali minimi, potrete accedere al sito www.derbygoo.it, nel quale in una pagina dedicata ai criteri ambientali minimi potrete trovare una tabella che identifica le differenti prestazioni e richieste di conformità a tali criteri, oltre a un elenco dei diversi prodotti e voci di capitolato in arena. Vi ringrazio dell'attenzione, buon lavoro!